E quindi uscimmo a rivederle stelle, la divina commedia di Dante Alighieri. Dante è un famosissimo poeta, vissuto tanto tempo fa. Tutti lo conoscono perché un giorno ha fatto un lungo viaggio alla ricerca di una luce speciale che illuminasse la sua vita. Durante il percorso ha visto tutto il male e la disperazione che affliggono i cuori di tante persone. Ma nonostante questo non ha smesso di cercare le stelle. Beatrice, il suo grande e unico amore, lo ha condotto a scoprire qual è l'amor che muove il sole e le altre stelle. Avete capito, bambini, di chi si tratta? Certo è Dio, l'Eterno, colui che ha creato ogni cosa. Dante vede Dio e ritrova se stesso, il suo viso e scopre cosa muove l'universo, l'amore.